E' la classica sfida che può valere una stagione, Giacomo Colaprice e Puglia 5 vi danno il benvenuto per il match tra Aquila e Molfetta e Real Dem. Prova a puntare Pedone, non ci riesce proprio Pedone, Pedone a spazio, la conclusione, l'ottima risposta di Casati, primo brivido con la conclusione di Pedone. Adesso Di Benedetto a spazio, Di Benedetto, la conclusione che porta in vantaggio le Aquile e Molfetta, Salvatore Di Benedetto per l'1-0 Molfetta. Dominioni che perde palla, Reino a spazio, gran giocata di Reino, Reino la palla per Ortiz, Ortiz, Cristian, Ortiz il 2-0 del Molfetta, grandissima azione, tutta sull'asse spagnolo, 2-0 Ortiz. Dominioni in posizione di pivot, si gira molto bene, Dominioni di sinistro, palla fuori non di molto, prima vera occasione per la Real Dem con Dominioni. Junior, Junior chiede palla a Schurz con un corridoio e viene salvato questo tentativo da Cristian Ortiz, pericoloso in Real Dem con Schurz. Suolatra che viene intercettata da Salvatore Di Benedetto che calcia, calcia e segna, Salvatore Di Benedetto che è partita la sua e sono tre per i biancorossi. Lo popolo serve Reino che ha spazio, si gira, Reino, boom, gol di Reino, 4-0 Molfetta. Schurz per Caffarelli che sbaglia tutto e adesso ha spazio Ortiz, Ortiz, che freddezza per Cristian Ortiz e sono cinque per i biancorossi di Rutigliani. Contro Caffarelli il tunnel di Garcia che va via, poi Antonio Di Benedetto, sei gol per Molfetta, 6-0 per i biancorossi. Caffarelli non riesce a trovare Schurz per la grande intenzione di Ortiz, adesso ha tantissimo spazio Garcia che corre e serve Salvatore Di Benedetto e sono sette per Molfetta, il gol di Di Benedetto con la deviazione di D'Ambrosio, 7-0 Molfetta. Pedone, si prepara intanto anche Andriani per il Molfetta, Pedone si gira, molto bene, ancora Pedone, Pedone! Va vicinissimo ad un gol clamoroso, Pedone, palla fuori di un soffio. Prova a girarsi e proprio Damiano trova il gol, è 7-1, piccola soddisfazione per Emanuele Damiano, 7-1 a qui le Molfetta. Poi ancora Junior Garcia riparte a spazio Molfetta, 3-2 per Antonio Di Benedetto, palla fuori di un soffio vicino all'ottava rete Antonio Di Benedetto. Il tentativo e c'è la rete di Loris Dominioni, che gol di Dominioni, 7-2 con la rete, la seconda rete per la Real Demi, il due arbitrale Di Benedetto, si accentra e segna! Ma che partita sta facendo? Di Benedetto, 8-2 Molfetta, quaterna per Salvatore Di Benedetto. Palla per Schurz, scambio con le Caffarelli, il tocco di Garcia sulla linea, salva il risultato. Perde palla qui Dominioni, Pedone a spazio! Con il corpo si oppone Schurz. Lopopolo per Ortiz, che piede di Lopopolo, Ortiz si gira, deviazione di Dominioni, calcio d'angolo Molfetta. Schurz per Dominioni, che prova nuovamente a calciare Lopopolo. Ci prova lui, palla che diventa prida per Garcia, per un tap-in che non riesce a Garcia. Per Junior, Junior per D'Ambrosio, c'è il tocco di Ortiz, poi lo scontro tra D'Ambrosio e Lopopolo. Un rimpallo che, per un soffio, non ha favorito la terza rete della Real Dem. Caffarelli per Schurz. Dominioni per Junior, che se lo divora incredibilmente. E finisce qui. Vincono le Aquile Molfetta, che si qualificano alle finalite da prime in classifica e affronteranno ai quarti di finale il Cus Sancona, Aquile Molfetta, che restano artefici del proprio destino. I think it's time to talk.